Dobbiamo denunciare un vergognoso e vile, disgustoso gesto verificatosi a Taranto, presso piazza via Caduti di Nassiria. La stele in memoria dei caduti di Nassiria è stata distrutta, è stata spaccata da delinquenti, vandali, malati di mente, oserei definirli, perché tale è la considerazione che si può avere di questa gentaglia. Professor Carmine Carlucci, un gesto che certamente non reca onore alla nostra città, seppure le mele marce sono poche e le persone di buona volontà tante. Voi come Comitato per la Qualità della Vita, con l'ausilio dei Carabinieri, avete provveduto a mettere un mazzo di fiori, a porgere questo gesto di riconoscenza in memoria di chi ha lasciato la propria vita per un ideale? Sì, noi già dal 2003 abbiamo voluto fortemente che fosse dedicata una via ai caduti di Nassiria e venne a Taranto a ritirare la mimusa d'argento, il maresciallo dei Carabinieri, Malirena Iacobini, ferita appunto a Nassiria. Poi con l'amministrazione abbiamo fatto realizzare questa stele. Purtroppo questo vile attentato alla civiltà, alla cultura, agli ideali, ovviamente merita un'indignazione da parte dell'intera città. Con molta semplicità questa mattina gli studenti del Pacinotti, i docenti, una rappresentanza autorevole appunto dei Carabinieri, i bersaglieri e con noi del Comitato per la Qualità della Vita abbiamo posto questo certo di fiori. L'auspicio che io chiedo proprio attraverso questa emittente che il sindaco di Taranto provveda immediatamente al ripristino della stele inaugurandola possibilmente o il 24 maggio o il 2 giugno.